Allora, buongiorno, anzi buon pomeriggio, qui Saronno, Piazza Volontari del Sangue. Qua stiamo facendo un flash mob contro l'omofobia, anzi per ricordare lo Spirit Day, che è la giornata che ricorda le vittime adolescenti del bullismo omofobico in Italia. Qui c'è anche una moto che è passata, ma va benissimo così. Allora, adesso qua c'ho vicino a me la fondatrice del gruppo di Milano, che poi si unisce qua a Saronno per ricordare questa giornata. Dani, di qualcosa anche tu. Oggi ci siamo riuniti, come diceva lei, per ricordare le vittime del bullismo, per dare la nostra voce a loro. In questo momento noi stiamo prestando la nostra voce a chi ormai non può più avere voce in capitolo. Noi ci riuniremo tra un po' in questa piazza, dove si terrà un discorso, ricordando le vittime e spiegando cos'è lo Spirit Day. Mentre Serena leggerà questo discorso, noi ci sederemo per terra e avremo un cero in mano, proprio come simbolo, in qualche modo, di luce, per ricordare lo spirito di chi ormai non c'è più. Dopo questo inizieremo a fare volantinaggio, perché ricordiamoci che una delle cose fondamentali è l'informazione. Per combattere questo tipo di ignoranza, qualsiasi ignoranza, ma quindi anche quello omofobico, l'informazione è fondamentale. Il nostro metodo per fare informazione è appunto il volantinaggio. Qui tramite il volantinaggio spiegheremo che cos'è lo Spirit Day per chi non potrà ascoltarci. Ed inoltre pubblichiamo anche una lettera che c'era stata mandata sulla nostra pagina, Mgaini Problems, da un giovane omosessuale e le sue difficoltà. Oggi, 20 ottobre, siamo qui per commemorare gli adolescenti che si sono tolti la vita a causa del bullismo omofobico. Ragazzi giovani dai 13 ai 17 anni, vittime di violenze, abusi fisici, psicologici, da parte dei propri compagni di classe e non solo. Siamo qui perché il 20 ottobre è stato dichiarato Spirit Day, giornata dello spirito. Indossiamo una maglia viola perché lo spirito è simboleggiato da questo colore nella bandiera arcobaleno. Siamo qui per urlare basta, basta le discriminazioni, basta la violenza, basta l'odio e basta l'omofobia. Siamo persone e come tali abbiamo il diritto di vivere e di amare liberamente. Dai ragazzi, tutti insieme, no all'omofobia! Grazie.